Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi apro i premi delle Rivals. Sono in divisione 8 e ho fatto 7 vittorie, quindi gli aggiornamenti e vediamo che pacchetti mi vengono dati. Allora, ho 3 opzioni. Nella terza opzione ho un pacchetto oro premium maxi, 26, un pacchetto giocatori oro, un pacchetto rinforzi da rimisti, 80 punti di qualificazione e 300 pie. Poi, opzione 2, ho 2 pacchetti oro premium maxi, 2 pacchetti giocatori oro, 2 pacchetti rinforzi da rimisti, 80 punti di qualificazione e 300 pie. E l'opzione 1, ho un pacchetto oro premium maxi, ah, gli altri non sono scambiabili, questi sono scambiabili, un pacchetto giocatori oro, un pacchetto rinforzi da rimisti, 80 punti e 300 pie. Ok, io direi di iniziare con un pacchetto rinforzi da rimisti, che non dovrebbe essere niente di che. Sdeibar, è una femmina secondo me, non è un maschio, arbiglia, argento, niente di che. Beh, metto tutto sul mercato. Andiamo col secondo pacchetto, faccio pacchetto giocatori o premium. Andiamo con questo qua, pacchetto oro premium maxi 26. Svizzera, dc, manchester city, forse ce l'ho già. Akanji, no, mi sembra di non avercelo. Niente walk out. Uffi. Vediamo se ho qualcuno di doppio. Sì, questi qua, almeno sono scambiabili. L'ultimo pacchetto, 12 giocatori oro, di cui 3 rari. Speriamo, speriamo, in walk out, Spagna, sinistra, Atletico Madrid. Chi è? Giavica all'anno, non so se vale qualcosa. Ce l'ho pure doppio. Vabbè, mettiamo questi sul mercato. Apriamo anche il pacchetto classico, cioè il pacchetto sì, classico. Vediamo se mi dà qualcosa di buono da poter comprare. Chi è? Femminile? Ah no, è maschile. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Vale qualcosina. 37 velocità, ma veramente. Corpi veloci e io, 2000. Ora vi mostro la mia squadra. Praticamente in attacco ho Osiman. Ho già fatto un sacco di partite con lui. 99 di preciso. Ho le AO che ho trovato da poco. Ho fatto 21 partite. Poi ho Gabriel Martinelli che ho comprato. Che devo cambiarlo di posizione, ma poi lo cambio. E in porta sto decidendo di prendere qualcuno, ma sono ancora indeciso. Quindi lasciate sotto un commento chi devo mettere da avercelo per bene. Questa è la mia squadra. Ho anche qualcuno di buono in panchina. E niente raga, io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Non ho trovato nessuno in questo video, ma può capitare, insomma. Buona giornata o serata a tutti.